Allora, Dayani, un'infanzia quasi, mi verrebbe da dire, rubata. Una mamma che, come tu ci hai detto, si prostituiva, una mamma che ogni settimana veniva con un uomo diverso e un'infanzia vissuta nella miseria più assoluta. Cosa ricordi di quei giorni, di quella povertà, di quella indigenza? Ricordo la mia infanzia perante la difficoltà e i momenti belli con mio fratello che giocavamo a football, fine notte 10, 11, perché non c'era ordine, non c'era orario, non c'era nessuna casa e quindi nel dolore ricordo i momenti belli. Cosa mangiavate voi quando eravate? Riso crudo, un po' di frutta, riso, le salsiccia, queste cose qua. Regalato dei vicini, di casa, regalato della gente e ricordarmelo questi momenti qua è difficile, molto.